Lucio Tosto, tecnico della squadra del Laci Sant'Antonio, 2-1 qui a Luigi Vandrea di Furci, una partita tirata fino all'ultimo, però c'è il caso? No, voglio dire, sapevamo di incontrare una delle migliori squadre, perché noi non guardiamo la classifica, io l'ho vista giocare, la Ionica a mio giudizio è una delle migliori squadre del campionato, testimone la partita di domenica a Tre Castagne, dove c'è una squadra che doveva vincere ed era proprio la Ionica, quindi una partita ambiente non particolare, però giustamente c'è il fattore campo, squadra attrezzata, sapevamo, eravamo pronti, abbiamo chiuso la partita, purtroppo si è riaperta con un rigore evitabilissimo, quindi non è per niente frutto del caso, ma è frutto di un gol costruito e di una ripartenza organizzata. Il caso, io ho parlato sul primo gol dell'ACI Sant'Antonio. Io non ho visto nessuno a terra, non si sono fermati i ragazzi, perché non c'era nessuno a terra, noi di solito lo facciamo sempre, quando c'è qualcuno non c'era, nessuno a terra, tutti in piedi, quindi abbiamo continuato, l'arbitro pure non ha fischiato niente, quindi abbiamo fatto gol, penso anche meritato. Comunque voglio dire che è stata una bella partita, dove la Ionica si è confermata, la squadra secondo me è che può ambire a qualcosa di più che la classifica attuale che ha. Vediamo un po' questo giro, questo tre castagni è raggiungibile? No, il raggiungibile è calcio, non c'è nessuno, è proprio la partita che menzionavo poco fa, quella con la Ionica in casa, testimone di quello che sto dicendo. Tre castagni con i tre punti non si può mai dire niente, sicuramente è una corazzata, sicuramente ha un vantaggio abbastanza cospicuo, ma c'è tutto un giro di ritorno dove noi puntiamo sicuramente al massimo del risultato, che è quello il primo posto. Campionato è ancora aperto allora? Sì, campionato è aperto e ho dichiarato che è aperto quando abbiamo perso in classifica due settimane fa. Io so i mezzi che ha questa squadra, conosco bene tutti questi ragazzi per averli avuti anche altri anni, so a livello caratterial, tecnico quello che mi possono dare. Peccato di aver perso qualche punto in modo roccambolesco in qualche partita del giro d'andata, però c'è un campionato intero e comunque ce la giochiamo sicuramente.